secondo me la cessione la partenza di cristiano ronaldo invece che liberarci da alcuni problemi ci ha messo più in difficoltà perché cristiano ronaldo era quel nascondere la polvere sotto il tappeto che con qualsiasi pallone buttato in mezzo sapevi che c'era uno che era in grado di risolvere in qualsiasi momento quindi tanti negli anni precedenti si sono adagiati credo che sarà questa con una rosa del genere e di giocatori così giovani e di rivoluzione in cui veramente a centrocampo ti manca qualcosa come punta un attaccante un finalizzatore ti manca qualcosa per quanto mi riguarda la juventus se entra nelle prime quattro posizioni ha fatto una buona stagione perché si sono troppi dubbi per quanto mi riguarda nella costruzione di questa rosa nel livello generale di questa rosa e nella mediocrità generale che alleggia nei confronti di questi 25 giocatori ciao ragazzi buona vigilia di natale a tutti oggi vi avevo detto che non vi avrei assillato con dei video lunghi perché la vigilia di natale è giusto passare tutti del tempo in compagnia dei propri cari io appena fatto il tampone è negativo ho incrociato le dita per una settimana perché mi sembrava doveroso comunque fare un tampone di controllo prima di andare a festeggiare con tutta la famiglia dato che comunque sono stato in sardegna matrimonio lello ho avuto contatti con altre persone che solitamente non fanno parte della mia cerchia ristretta e quindi sono tranquillo e festeggerò il natale in buona compagnia spero che questa cosa possa essere vera anche per voi oggi vi avevo detto che ci saremmo visti soltanto per parlare di mercato e nulla più non c'è niente di particolare da dire c'era questa notizia su Giuntoli del Napoli c'era questa notizia che era imbalzata ieri sera secondo la quale Vlaovic avrebbe scelto la Juventus la prima non trova conferme la seconda è una fake news è stata smentita non è stato quello che ha detto Sky quindi di mercato ancora c'è poco o niente vi invito a lasciare un mi piace a questo video e voglio solo fare una chiacchierata davvero sarò breve rispetto ai miei standard perlomeno su quello che è successo ieri nel senso che non è successo niente di particolare però è una riflessione più che altro ieri ho fatto uscire due video li trovate comunque qui sopra nelle schede vi li riassumo un attimo nel primo ho valutato la Juventus e ho detto che la stagione in Serie A della Juve è da 5 secco in Champions invece 7, 7 e mezzo perché comunque il girone è stato affrontato in una buona maniera abbiamo fatto delle buone prestazioni abbiamo avuto quel disastro a Londra però è ovvio che se di valutare tutto il resto del girone lo valuti in maniera positiva se è anche passato per primo questo ti ha permesso di estrarre il Villarreal dall'urna quindi se fai una media tra le due cose ottieni un 6 stremenzito ma è ovvio che non è il valore reale di questa Juventus è per questo che ieri con Massimiliano Allegri sono stato secondo me giusto più che severo o largo perché ho detto che il voto va dal 5 più al 5 e mezzo più sbilanciato verso il 5 e mezzo per quello che è stato il filotto finale della Juventus cioè quelli che sono stati gli ultimi due mesi di Juve ma l'avvio della Juventus è stato pesantissimo perché dopo quattro giornate ti sei ritornato con due punti ed è vero che il girone di Champions ci stava a passarlo per quello che era il livello delle squadre passarlo da primo è assolutamente qualcosa di positivo e questo Allegri lo riconosco poi qualcuno invece mi ha detto che sono stato o troppo largo o troppo stretto nel senso che per tanti Allegri meritava un 4 secco per altri invece la sufficienza se non qualcosa di più io non sono d'accordo con questa cosa ma vi spiego anche il perché appena finisce il mercato quest'estate vi dico una cosa e cioè nonostante Massimiliano Allegri che per quanto, io l'ho sempre detto, non abbia mai ritenuto Allegri l'allenatore giusto per questa Juventus io ho sempre riconosciuto dei grandi meriti, delle grandi capacità di gestione della squadra e di risultati perché questo è stato Allegri nei primi 5 anni di Juve poi per quello che è il progetto adesso della Juventus non mi sembrava Allegri l'allenatore giusto devo dire la verità, di grande valore non se n'è creato perché se penso all'anno scorso e penso a quest'anno bene o male ci sono stati giocatori forse che sono andati giù a livello di rendimento lo stesso Morata, lo stesso Chiesa, Chiesa veramente a livelli allucinanti vabbè non c'è più Cristiano Ronaldo, lo stesso Rabiot, Rabiot l'anno scorso aveva fatto una buona stagione McKennie siamo su quei livelli lì, Arthur siamo su quei livelli lì ecco forse ci sono alcuni giocatori come Bentancur che ribadisco che sono leggermente meglio rispetto all'anno scorso niente di trascendentale, una sufficienza che non ci si arriva ma nemmeno gravemente insufficiente per quello che è Bentancur e poi ci sono alcuni giocatori che va bene l'anno scorso non c'erano che sono Locatelli che ha reso molto bene Desciglio che non è un titolare ma sta rendendo abbastanza bene quelle poche volte che è stato tirato in causa Pellegrini che è stato valorizzato, forse è stato l'unico vero calciatore valorizzato da Allegri fino a questo momento ma soprattutto ci sono alcuni giocatori come Di Bala Di Bala che l'anno scorso non c'è mai stato e che ora sta rendendo quindi è vero che ci sono dei giocatori che sono in down e ci sono dei giocatori che stanno rendendo o sul loro livello abituale o l'unico Pellegrini, vabbè Locatelli non puoi dirlo perché l'anno scorso non c'era ma comunque Locatelli ha fatto una buona stagione che è andato su buoni livelli Pellegrini poi vabbè Sandro in down da qualche stagione a questa parte Bonucci ed Eliti invece stanno mantenendo degli standard importantissimi è ovvio che però io non posso essere soddisfatto per quella che è la prima parte di stagione perché finisce il mercato e vi dico questa squadra è da quarto posto deve entrare nei primi quattro posti, non si può giocare lo scudetto con Ronaldo sarebbe stato tutta un'altra storia parere personale che non potremmo mai capire se è vero oppure no con Cristiano Ronaldo non dico che sarai prima, che saresti stato primo perché l'Inter merita assolutamente di essere prima ma saresti molto vicino tra Milan e Inter in quella posizione lì perché? Perché ad Allegri io riconosco una seconda parte di prima parte di stagione importante ma ci sono state alcune cose che non mi sono piaciute durante tutte queste 25 partite l'altro giorno vi parlavo di 5 punti in particolare i due con l'Udinese, i due con il Venezia e quello con il Sassuolo con quei 5 punti lì tu saresti stato aggrappato dentro alla lotta per la Champions e quella secondo me sulla carta è la posizione che deve occupare la Juventus quindi cosa significa? Che da un allenatore come Allegri e con la squadra che secondo me sulla carta è da prime 4 posizioni tu dovevi essere lì e quindi quei 5 punti pesano come un macigno e per quello che vi ho detto 5 e mezzo l'avrei dato con la vittoria sul Venezia parlando della Serie A con anche gli altri 3 punti avrei dato 6 perché secondo me quella è la posizione che merita la Juventus nelle prime 4 è per quello che l'altro giorno vi parlavo di rimpianti dall'altra parte la carta è una cosa, il non la carta è un'altra cosa il campo è un'altra cosa e il campo oggi ci dice che ci meritiamo ci meritiamo di essere fuori dalla zona Champions ce lo meritiamo il Napoli, l'Atalanta, il Milan e l'Inter si meritano le prime 4 posizioni per quello che è stato fatto vedere poi è ovvio che il Napoli è in crollo verticale il Milan e l'Atalanta sono una montagna russa l'Inter è la squadra che probabilmente vincerà lo scudetto la Juventus adesso è la squadra che deve deve far vedere chi è ed è per questo io sono sempre stato molto coerente nell'analisi degli allenatori quando arrivavano i risultati per me gli allenatori erano giustamente da lodare quando i risultati invece non arrivavano la squadra, le prestazioni della squadra sono ovviamente lo specchio di chi la gestisce questa squadra di chi la allena, di chi la vede tutte le volte di chi prende le decisioni quindi avere una Juventus che per me è da prime 4 sulla carta e che poi il campo ti fa vedere che non è le prime 4 se ho sempre dato dei meriti agli allenatori è ovvio che per coerenza non posso premiare l'allenatore è ovvio che Allegri non merita la sufficienza per quello che è stato fatto vedere perché secondo me la Juve non ha la rosa da scudetto e quindi non chiedo di vincere lo scudetto quest'anno ma nei primi 4 sì e quello che è stata la prima parte di stagione non è da Juventus e non è da Allegri per questo il voto è negativo qualcuno mi ha detto che sono stato un po' troppo severo con Allegri ma il voto di Allegri e il voto da Juventus vanno su un binario molto simile tra di loro e se la Juve ha avuto un 5 Allegri tra il 5 più e il 5 e mezzo perché ci metto anche la Champions che va un po' a bilanciare e comunque non tutte le colpe sono di Allegri ma anche tante dei giocatori quindi il voto di Allegri ve lo spiego in questo modo io non sono soddisfatto di Allegri ma se farò una seconda parte di stagione di livello come ha fatto gli ultimi due mesi a livello dei risultati perché sicuramente c'è da migliorare e questo passa anche dal mercato sarò il primo a essere soddisfatto e a ricredermi e ad aumentare la valutazione sia della natura che della squadra dall'altra parte mi è stato detto che i voti sono stati un po' troppo alti e concordo su questo concordo ma allo stesso tempo vi dico anche questa ci sono dei giocatori che secondo me non hanno performato e sono Alessandro Rabiot Ken e questi sono i tre grandi che non hanno performato e poi ce ne sono alcuni come Artur, Bentancur, Kuluseschi che sono in quel limbo lì Morata per me è in linea con la stagione che deve fare Alvaro Morata Chiesa ha underperformato Dybala è stato sui suoi standard invece perché da Dybala mi aspettavo questo forse qualcosina di più e per quello che gli ho dato il meno e quindi ribadisco una squadra che ora è al quinto posto a pochi punti dalla quarta posizione e a pochi punti dalla terza che è il range dove secondo me si deve ficcare la Juventus perché per me le prime cinque squadre del campionato a livello di rosa sulla carta sono Inter poi se la giocano Juve, Milan, Atalanta seconda, terza, quarta mi sentala come volete secondo me la Juve forse qualcosina in più delle altre due ma le altre due Milan e Atalanta sono delle schegge impazzite quindi replicare esattamente le prime quattro posizioni l'anno scorso personalmente il Napoli come rosa io prima che finisse il mercato ma il Napoli non ha cambiato niente nemmeno Roma e Lazio l'avevo messo al settimo posto perché secondo me il Napoli non ha una buona rosa ma il campo sta dicendo che il Napoli merita di essere lì poi se sarà ancora corlo verticale io non lo so la mia posizione di rose quando ancora c'era Ronaldo e Juve era Juventus Inter Milan e Atalanta non mi ricordo terza o quarta ma comunque poco cambia Roma Lazio e Napoli o Lazio-Roma comunque quinta o sesta posizione quasi a pari merito per le due romane è saltata fuori la Fiorentina che è la variabile impazzita la Lazio non sta andando bene la Roma sta andando su standard che secondo me le si addicono il Napoli ha over per Romato la Juventus underperformato perché dopo che va via Ronaldo è ovvio che non può essere più la Juve la miglior rosa del campionato ma diventa per forza di cose l'Inter e la Juve si mette lì in mezzo per quello vi dico sì i voti forse sono un po' troppo alti perché noi tifosi juventiani siamo delusi da quella che è la posizione classifica della Juve adesso da tutto quello che è successo alla Juve siamo molto delusi siamo molto esigenti perché siamo la Juventus dall'altra parte io da quest'estate vi ho detto con grande chiarezza sì siamo la Juventus ma non siamo più quella Juventus non siamo più quella Juventus e io sono dell'idea che un calciatore come Cristiano Ronaldo in una rosa mediocre perché la rosa della Juve ha delle eccellenze ma anche tanta mediocrità in un campionato mediocre e non ho paura a dirlo come la Serie A perché secondo me ora la competitività dietro l'Inter è alta perché le squadre si sono livellate tutte verso il basso uno come Cristiano Ronaldo ti sposta gli equilibri in maniera disastrosa e anche una squadra buona come la Juventus eccezionale quest'anno con Cristiano Ronaldo può lottare per lo scudetto senza Cristiano Ronaldo no quindi ovvio che siamo delusi sì ma i miei voti sono abbastanza alti tranne qualche giocatore che veramente mi ha deluso perché secondo me la Juve è molto vicina a quella che è il livello della Juventus mi aspettavo qualche punto in più sì e me l'aspettavo vicina molto più vicina al quarto se non al terzo posto ma il campo ha detto questo cioè che la Juve oggi è una squadra con dei blackout che vanno sistemati e che per il momento sembrano essere stati sistemati non è più una squadra che si fa gol da sola come nelle prime giornate perché le prime quattro giornate ragazzi ci siamo fatti sempre gol da soli ci stanno dei vincenti di percorso e da me si traducono Ellas Verona dove hai meritatissimo di perdere Empoli dove hai meritatissimo di perdere quelle non le prendo neanche in considerazione nei punti persi Malvenese che era andato in vantaggio te il Sassuolo che era andato in vantaggio te prendi gol all'ultimo secondo l'Udinese era andato in doppio vantaggio te e ti sei fatto due gol da soli quelle sono le partite secondo me del rimpianto con quei cinque punti lì e quindi al terzo quarto posto in Serie A la Juventus sarebbe stata perfettamente in linea con le mie aspettative Allegri sarebbe stato perfettamente in linea con le mie aspettative perché i big match non li ha persi e li ha sempre vinte con le piccole che praticamente è stato l'Allegri degli altri anni poi è ovvio che tanti big match li abbiamo vinti ma avevamo anche squadre di alto livello e mi sarei accontentato mi sarebbe andata bene ad oggi la Juve secondo me non è sufficiente come non è sufficiente l'operato di Allegri perché qualche punto per strada l'hai perso ma non sei così distante dallo standard e dal livello della Juve che mi aspettavo quest'estate alla chiusura del mercato quindi sono soddisfatto no sono stupito leggermente negativo ma nemmeno troppo perché poi la seconda parte della prima stagione della Juve è stata buona a livello dei risultati abbiamo infilato un bel filotto di partite ahimè ecco quei due punti della sette a Venezia ancora pesano tantissimo però non sono così stupito ecco quindi quei voti sono alti lo confermo sono voti abbastanza alti perché ci sono 3-4 insufficienze pesanti tutti gli altri sono sul 6 e poi ci sono 4-5-7 meno e un sette unico che è De Ligt come me De Ligt è il miglior calciatore della stagione della Juve fino adesso e poi ci sono Bonucci Quadrado Di Bala chi altri? Locatelli che sono da sette meno e poi Bernardeschi Pellegrini Scesni che sono da sei e mezzo poi giocatori che navigano tra il 6 6 più 6 meno perché non è che mi abbiano soddisfatto tanto anche 5 e mezzo e poi le 3 insufficienze gravi che secondo me sono Ken perché da Ken mi aspettavo davvero tanto di più quindi Ken io gli do un'insufficienza grave ma le 2 più gravi sono Rabiot e Alexandro che per un motivo o per un altro non si beccano 5 fisso ma 5 più l'ho spiegato Alexandro perché comunque la prima parte di stagione 4-5 partite le aveva fatte bene e sembrava che fosse tornato e Rabiot perché non mi ha veramente mai convinto ma è stato schierato tante volte esterno di sinistra e qua sono colpe di Allegri dove non ha mai performato il giocatore quindi poi Ramsey inqualificabile ovviamente perché non ha mai giocato però questi sono i 3 giocatori che mi hanno veramente fatto incazzare di più Ramsey perché non c'è mai e che a questo punto non è più un discorso di infortuni Rabiot e Alexandro perché veramente mi sembra che ci prendono anche un po' in giro quando vanno in campo Ken perché mi aspettavo di più tutti gli altri bene o male sono nel range che mi aspettavo tranne Pellegrini e Bernardeschi che sono di più e Chiesa che è stato fuori tanto purtroppo e che quindi si becca quel 6 più quindi sì i voti sono probabilmente alti per quello che è stato il rendimento della Juve ma non mi aspettavo un rendimento tanto diverso da quello attuale qualcosina di più sì ma poi è il campo che decide che detta legge ed è per questo che alcuni voti sono più bassi Juve Allegri in primis perché sono le due valutazioni che faccio rispetto a quella che era stata la mia previsione cosa farà la Juve nella seconda parte di stagione non lo so ancora una volta sarà il campo e qua Allegri ha una grossa opportunità perché una stagione che sembrava morta distrutta rovinata a inizio anno in realtà è ancora viva e vegeta ma dipende tutto da noi buona vigilia natale noi ci vediamo domani magari per gli auguri anche in un video molto breve uno short quindi un minutino avevo detto che sarebbe stato breve anche questo siamo già 16 minuti faccio schifo ciao ragazzi